Giro di deleghe in giunta e consiglieri che lasciano il PD. L'annunciata conferenza stampa del sindaco Manildo non c'è stata. Sarebbero stati gli stessi consiglieri di maggioranza a chiedergli con una lettera il silenzio finché non ci sarà tra lunedì e martedì un franco confronto tra loro e il primo cittadino che nel merito non vuole entrare. Avevamo tantissimi, abbiamo, continuiamo ad avere molti progetti, tante cose importanti per la città. Forse ci siamo persi in qualche liturgia, è meglio che pensiamo al bene della città tutti quanti insieme, pensiamo a dei progetti. Io me ne sto occupando in modo molto forte. Manildo che subisce pressioni da tutte le parti, anche il PD avanza le sue pretese. In una nota il segretario cittadino Andrea Michielan sottolinea che l'azione politica ha spesso bisogno di un rilancio per ridefinire obiettivi e priorità. Se questo significhi cambio di ruoli o di persone, il segretario al momento non lo chiarisce. Il sindaco non sembra intenzionato a badare a chi lo tira per la giacchetta. Magari anche guardando i progetti ci si rende conto che forse qualche visione è un pochettino distorta, ma continuiamo a guardare i progetti e ci rendiamo conto che abbiamo fatto molta strada, molto di più di chi invece che guardare i passaggi si guarda l'ombelico. Quanto all'uscita dal PD di Domenico Zanata e Daniela Zanussi, Manildo rimane certo di poter contare sul loro sostegno. Dopo hanno detto che era un modo costruttivo per rapportarsi alla maggioranza e a me, sempre in modo propositivo, che la fiducia in me come persona era totale. Malgrado questo, quella che sta per aprirsi si preannuncia come la settimana della resa dei conti.